Sono marsicano quindi ho scritto una raccolta per il centenario del terremoto del 2015 quindi vi faccio scegliere a voi, vorrei un testo un po' spinto Spinto, spinto Allora, questo è il terremoto del centro Italia della Marsica ha causato 30.000 vittime ad Arezzano ha annullato un'identità marsicana cittadina che non si è più, ahimè, riformata e questa morta, questo Spurriver che io vado a leggere si chiama Donna Marisa capirete perché è l'ultima a morire Donna Marisa, indonita, donnaccia di tutti Guai dal piacere il suo ultimo piacere frutto del dovere dovere di puttana si appallottolava le calze bucate dal verde, cotone delle coperte e Marcello col busto della fatica di garzone trasparente uscì dalla porta incerneliata con la sua ultima notte imprigionata nella pattina rattoppata il suo ultimo piacere frutto del dovere frutto del dovere dovere di puttana rietta e dimenticata Donna Marisa, io ti amo ancora oh mia puttana dove hanno interrato la tua sottana grazie 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 grazie